ma che noia questa roba che barba non ne pensi più uffa che scatole ma ragazzi che ne dite se facessimo un tour virtuale a 360 gradi dell'osservatorio ma Simone sempre le tue idee lo sai che non si può uscire di casa io però ho una soluzione ho dei video a 360 che avevo fatto tempo fa sì è vero e nel cloud sono sicuro ci sono anche le foto a 360 del museo ma dai che bello ma allora Roberto potremmo fare tutto restando qua a casa senza neanche muoverci sì sì dai dai sai che è un'ottima idea vai sì dai 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 ok ok bene bene così funziona Marco bravo andiamo dai Federico eccola qua la torlonga la specola l'osservatorio astronomico di Padova voluto dalla Serenissima oltre due secoli e mezzo fa adesso è una delle strutture dell'istituto nazionale dell'astrofisica qua dentro ci lavorano oltre un centinaio di donne di uomini che studiano il cielo costruiscono strumenti che volano su satelliti o che sono montati sui telescopi più grandi di tutto il nostro pianeta da qui dentro studiamo il Big Bang i Quasar le galassie come queste si formano e come si muovono nel gas intergalattico e poi ancora cerchiamo di capire come è fatta la nostra di galassia la Via Lattea contiamo le stelle misuriamo come si muovono come sono distribuite studiamo le supernove le classifichiamo con i nostri telescopi di Asiago cerchiamo di capire come le stelle nascono e crescono e scopriamo anche dei nuovi pianeti ma non disdeniamo neanche quelli vicini e magari la nostra Luna studiando praticamente ogni corpo del nostro sistema solare compresi asteroidi e comete naturalmente ci sono delle stanze bellissime che formano il museo dell'osservatorio astronomico utili a capire come si è sviluppata l'astronomia padovana normalmente queste sono visitabili a piccoli gruppi ma in questi giorni di coronavirus riusciamo comunque a vederle grazie alla tecnologia avanti forza entriamo benvenuti nella sala dell'iscrizione dove al centro potete ammirare il grande telescopio equatoriale del bosco questo strumento ha un diametro di 18,7 cm e venne realizzato da Georg Merz uno dei più grandi costruttori di strumenti ottici dell'ottocento in origine questo strumento apparteneva al barone Ercole den Boschi che dopo una carriera in marina si trasferì a Gallarate dove essendo di famiglia giata potè costruire un proprio osservatorio astronomico amatoriale alla morte del barone i suoi eredi che non erano interessati alla strumentazione astronomica decisero di venderla così nel 1881 Lorenzoni in veste di direttore di questo osservatorio astronomico acquistò il grande telescopio equatoriale per la cifra di 11.867 lire per collocare in maniera opportuna il cannocchiale Lorenzoni decise di acquistare anche la cupola girevole di cui il barone aveva già corredato il suo strumento venne dunque affittato un lotto di terreno costituito dalla punta di terra compresa tra il bacchiglione ed il canale navigo sul quale l'osservatorio era esse una struttura apposita atta a sostenere la cupola e a contenere l'equatoriale con tutti i suoi accessori diventato operativo questo strumento divenne il più importante per gli astronomi padovani e tale fu per quasi 60 anni cioè fino al 1942 quando ad Asiago venne inaugurato un telescopio ben più grande il Galileo di un metro e venti di diametro ci troviamo adesso in sala meridiana che è la più antica sala osservativa della specola ed è chiamata così perché nel settecento gli astronomi da qui osservavano il passaggio degli astri di tutti gli astri compreso il sole al meridiano celeste guardiamo il pavimento e possiamo vedere che qui è incisa la linea meridiana che in parole povere potremmo dire che è la linea che ci indica esattamente la direzione nord-sud grazie alla linea meridiana gli astronomi potevano osservare l'istante del mezzogiorno l'istante esatto del mezzogiorno ogni giorno e verificare così il corretto funzionamento degli orologi questo strumento la linea meridiana è stato il primo ad entrare in funzione qui alla specola e possiamo dire che è l'unico ancora perfettamente operativo ancora oggi anche in questi giorni anche se purtroppo nessuno di noi può andare a vederlo giriamoci ora verso sinistra verso la parete ad ovest lì possiamo vedere il grande quadrante murale che era stato costruito da Jesse Ransden alla fine del settecento ed era lo strumento principale più importante che si utilizzava alla specola all'epoca con il suo cannocchiale si poteva osservare il cielo attraverso una fenditura che attraversava tutto il soffitto da nord a sud di questa sala e che oggi è tamponata si potevano così osservare le stelle durante la notte nel momento in cui passavano appunto al meridiano celeste se ora ci giriamo verso destra possiamo invece vedere il grande affresco che è dipinto nella parete est della sala questo dipinto ci mostra il sistema solare così come lo si conosceva attorno al 1770 al centro vediamo ci sono le orbite planetarie mentre in basso a destra ci sono i pianeti rappresentati così come si vedevano e si osservavano con i cannocchiali dell'epoca tra questi non compare urano se facciamo caso perché urano fu scoperto da William Herschel soltanto nel 1781 quindi dopo che questo affresco era già stato dipinto sopra i pianeti che è invece raffigurata l'orbita completa della cometa di Halley c'è una curiosità in questo affresco pensate un po' all'interno dell'orbita la cometa è stata collocata proprio nella posizione che occupava attorno al 1767 cioè l'anno in cui si diede avvio alla costruzione della specola ma ora è tempo di mettersi in moto perché dobbiamo percorrere i 100 gradini che ancora ci mancano per arrivare alla sommità della torre nella prossima sala ma noi è vero stiamo facendo un tour virtuale non c'è bisogno di far fatica va bene chiudiamo gli occhi e in un istante saremo in sala delle figure eccoci arrivati in cima alla torre della specola in sala delle figure questa stanza ha una volta di 8 metri e grandi finestroni alti 4 metri ciascuno che nel secolo diciottesimo e diciannovesimo servivano per portare all'esterno gli strumenti di osservazione nella sala infatti possiamo vedere vari strumenti astronomici e orologi che servivano per l'osservazione del cielo in tutte le direzioni non solo al meridiano come nella sala precedente al centro in particolare domina il telescopio altazimutale da 12 centimetri mentre vicino alle finestre si trovano un quadrante mobile un cannocchiale terrestre e un piccolo telescopio equatoriale come potete vedere i finestroni sono intervallati alle pareti da dei ritratti a piena figura di grandi astronomi del passato realizzati nel 1773 dal pittore Giacomo Cesa disposti in ordine cronologico da destra a sinistra partendo dalle scale di accesso troviamo l'astronomo greco Ptolomeo vissuto nel secondo secolo dopo Cristo che mostra il sistema solare geocentrico segue Copernico che tiene in mano lo schema del sistema solare eliocentrico con il quale a metà del 500 egli ha rivoluzionato la concezione del cosmo poi vediamo il danese Tycho Brahe l'ultimo grande astronomo a osservare il cielo a occhio nudo senza l'ausilio di strumenti ottici dopo di lui è infatti rappresentato Galileo Galilei con il cannocchiale che egli per primo rivolse al cielo ricordiamo che Galileo non ha mai osservato da quassù ma da casa sua vicino alla chiesa del santo a Padova dopo Galileo c'è l'astronomo Keplero con lo schema delle sue famose leggi quindi il grande fisico Isaac Newton che tiene tra le mani una sorta di pendolo che raffrigura la legge di gravità universale con la quale si completa la rivoluzione astronomica infine sopra la porta d'entrata troviamo l'astronomo Geminiano Montanari professore di astronomia della fine del seicento a destra invece Giovanni Battista Poleni fondatore della scuola sperimentale di fisica padovana del diciottesimo secolo se potessimo uscire all'esterno potremmo ammirare il magnifico panorama della città di Padova che nei bei giorni spazia fino alle prealpi e alle Dolomiti Venete e proprio lassù tra quelle montagne si trova la prossima tappa del nostro tour virtuale fuggiamo dalle luci della foschia della città e raggiungiamo l'avamposto delle Alpi più vicino ed è così che negli anni 70 per la precisione il 16 giugno del 1973 l'anno della sua inaugurazione sorge la stazione osservativa di Cima Eccar dotata di un telescopio da un metro ed 82 cm di diametro il numero vi suona familiare? vi è capitato ogni tanto di sentire la citata come la distanza a cui bisogna tenersi per il rischio di contagio? 182 cm sono giusti giusti 6 piedi l'unità di misura anglosassone infatti lo specchio principale di questo telescopio è stato costruito proprio in Inghilterra si tratta di un telescopio moderno almeno per allora ma per certi versi questa configurazione viene usata ancora oggi ed è dotato di due specchi il principale collocato nella strattura più massiccia sostenuta da una forcella inclinata in modo da risultare allineata con l'asse terrestre ed il secondario che è sostenuto da un traliccio tubolare che sembra volersi affacciare verso il cielo attraverso l'apertura della cupola semisferica che contiene il telescopio rimane tuttora il telescopio per osservazione nell'ottico di maggior diametro che insiste sul territorio italiano anche perché i telescopi di più grandi dimensioni 3 metri e mezzo 8 metri fino anche 40 sono e saranno costruiti in zone più sperdute del globo ma questo strumento sede osservativa dell'istituto nazionale di astrofisica e controllato direttamente dall'osservatorio astronomico di Padova continua a scrutare il cielo in tutte le notti in cui le condizioni meteorologiche lo consentono i due specchi concentrano la luce delle stelle in un punto detto fuoco cassegrain dove vari tipi di strumenti vengono montati a rotazione in modo da garantirne il massimo ritorno scientifico a seconda della luminosità del cielo che è causato dalla presenza o meno della luna uno spettrografo scompone la luce delle stelle consente la determinazione della loro composizione chimica e permette ad esempio di classificare le supernove più brillanti che appaiono nel cielo in questo modo capiamo cogliendole nel momento di massima luminosità se ti tratta di una tipologia per così dire rara in modo da organizzare tempestivamente ulteriori osservazioni con altri telescopi o da satellite un altro strumento invece misura l'intensità di luce delle stelle e viene utilizzato per confrontare i tempi rispetto a quelli previsti dai calcoli in cui cadono eclissi di pianeti lontani che ruotano attorno a stelle diverse dal nostro sole in questo modo si può scovare tramite eventuali anticipi o ritardi degli attimi di questi eclissi se attorno a quel pianeta albergano ad esempio delle nuove lune ed infine questo telescopio viene anche usato per collaudare nuovi tipi di strumentazione ad esempio delle camere per poter mappare i detriti che ruotano attorno alla terra in modo da poter fare gli eventuali aggiustamenti qui in loco prima di spedirle in orbita o di inviare i telescopi nei quattro angoli del globo insomma da Padova siamo andati ad Asiago e da qui possiamo andare nell'universo intero di spedio di spedio di spedio Grazie a tutti